Abbiamo detto dall'inizio che le persone che hanno contratto il virus hanno un tempo in cui sono immuni, questo tempo è stimato in alcuni mesi e noi considereremo e consideriamo questi mesi nel senso che diamo priorità alle persone che non hanno contratto il virus e verifichiamo il tempo di immunità stimata ancora residuo nelle categorie che bisogna progressivamente vaccinare.